Pare Parecchio Parigi, nuova pellicola diretta da Leonardo Peraccioni, finalmente uscita nel cinema. E che dire, sarà il nuovo film con scene demenziali divertenti e che comunque ha una trama molto divertente? Ebbene sì, in parte, però dall'altra parte devo dire che si è dimostrato un film molto maturo, molto legato a rapporti umani, sentimenti, relazioni, e quindi devo dire che lo stile, seppur mi sia sempre piaciuto il suo nei vecchi film, abbia raggiunto un'impronta che mi piace ancora di più. Andando un po' a spremere quello che è la trama e senza fare grossi spoiler, diciamo che tutta la vicenda si svolge intorno a tre fratelli e un padre. Un padre che comunque si è allontanato molto dai figli, un padre che diventava un po' bulbero, che si è un po' inasprito, diciamo. Un padre è interpretato dal nostro Nino Frassica e quindi mi posso solo far immaginare la dotatoriale che ha questo personaggio. Il nostro Leonardo Pieraccioni insieme alle due sorelle, che diciamo sono molto distaccati dal padre e che non lo sentono da anni, devono trovare il modo di passare del tempo insieme a lui perché hanno saputo che ha un problema e che potrebbe morire molto presto. Non so, è una cosa brutta. Viene descritta anche in un modo abbastanza serio e di fatto il film ha iniziato a prendere una piega che a me è piaciuta moltissimo perché la dinamica del film è realizzare l'ultimo desiderio del padre prima che se ne vada. E viene raccontato in un modo, seppur anche divertente, anche con una nota molto ma molto delicata e fragile che ti fa emozionare. È una cosa veramente assurda. I tre fratelli decidono di far credere al padre che lo stessero portando a Parigi. Invece lo hanno soltanto messo su un letto sopra un camper e gli hanno fatto fare il giro delle loro case in pratica che sono tra Firenze, Scandicci, Sesto Fiorentino, quindi anche vicino casa dove sto io. E quindi li fanno credere che lo stanno portando a Parigi dicendo che sono a Bologna o che sono da altre parti a fare le varie soste passandoci il tempo insieme e riavvicinando quel rapporto che era andato perduto con gli anni. E quindi attraverso questa messa in scena fanno credere a lui di essere in viaggio per Parigi. E qui abbiamo un riavvicinamento tra i figli e il padre perché comunque passano tanti momenti insieme, si riaffiorano tanti ricordi e si creano delle scene molto commoventi, molto... Insomma la lacrimuccia mi è calata pure a me perché comunque è un rapporto che si era perso con gli anni e si è riavvicinato grazie a un viaggio diciamo forzato anche se comunque il pericolo di vita da parte del padre c'era veramente. E la conclusione è molto molto significativa perché durante tutto il viaggio i nostri protagonisti, i nostri fratelli pian piano iniziano a credere veramente di essere in viaggio verso Parigi e il padre già ci credeva di suo perché comunque si fidava dei figli. Quando succede una cosa sul finale si inverte la posizione perché il padre magari scopre la verità ma loro pensano veramente di essere a Parigi e iniziano ad esultare, capito? E questa cosa è bellissima perché a livello di spiegazione del finale uno può dire che con l'immaginazione si può arrivare dovunque e in più ti fa anche capire cosa un figlio può fare per il padre per renderlo felice. Ora, non voglio mettere nessuna croce sul fatto che abbiano rapito un disabile, gli abbiano fatto credere una cosa invece che un'altra perché lì potrebbero nascere delle discussioni. Però comunque da parte di alcuni figli fare dei gesti del genere sono cose veramente bellissime per quanto riguarda il migliorare il rapporto padre-figlio ed è una cosa su cui dovremmo lavorarci un po' tutti perché tante persone lo danno un po' troppo per scontato. Direi di essere molto soddisfatto di vedere un film di peraccioni così immaturo e per lo più vedere un riavvicinamento di tre figli con il padre in un modo unico perché chi lo penserebbe mai di rapire il padre e di portarlo a spasso tra Firenze e Scandicci facendo richiedere di portarlo a Parigi. E tra l'altro il padre quando poi scopre la verità se ne va in un modo sereno come se non gli interessasse veramente andare a Parigi ma il suo unico obiettivo fosse riallacciare i rapporti con i figlioli e fare un'ultima cosa con loro che fosse stata a Parigi o che fosse stato un viaggio in camper tra Firenze e Scandicci. Quindi ragazzi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo film di Leonardo e Pieraccioni se vi è piaciuto e se siete d'accordo con il mio pensiero. In ogni caso vi ricordo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci vediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!